Saranno 170 i ragazzi delle classi quinte del Nolfi ad iniziare prima della data del 30 settembre le lezioni del nuovo anno scolastico. In uno sforzo organizzativo si è data la precedenza, come ci aveva sottolineato il preside Samuele Giombi, a coloro che devono affrontare anche l'esame di Stato e che quindi hanno più necessità di entrare prima possibile a regime con le lezioni e gli studi. Le otto classi quinte saranno ospitate già a partire da questa settimana nei locali dell'Istituto Olivetti di Via Nolfi, che sarà il primo a dare asilo agli studenti orfani della loro sede, giusto il tempo di mettere a norma il Nolfi con i fondi stanziati dalla provincia e farli rientrare nella loro sede abituale per poi ospitare il 30 settembre in un avvicendamento di alunni il resto degli studenti che saranno smaltiti anche nei locali predisposti alla Gandilio e in minor parte a Palazzo Marcolini, ex sede del liceo artistico. Proprio con la piantina alla mano, assieme ai miei collaboratori, appena abbiamo saputo la notizia, ho contattato immediatamente il preside Giombi che ha sempre avuto la mia piena disponibilità e ho trovato delle aule, chiaramente spostando aule docenti, uffici, vicepresidenza, per far fronte all'emergenza, perché è giusto che i ragazzi del Nolfi e Polloni, che sono anche i nostri studenti e sono anche i nostri figli, debbano iniziare il loro anno scolastico con serenità. Quando arriveranno? Io adesso non vorrei darvi le notizie, ma assieme al preside Giombi di Comune Accordo, per evitare che i ragazzi di Quinta perdessero troppo a scuola, abbiamo stabilito assieme di accelerare un po' e grazie alla disponibilità della provincia stiamo riuscendo in questo intento, per cui per la fine di questa settimana, penso ragionevolmente tra giovedì e venerdì, i ragazzi di Quinta intanto verranno qui utilizzando la scuola di mattina e il sabato, che questa scuola sarebbe tecnicamente chiusa perché noi non abbiamo lezioni il sabato, invece aprirà solo per loro. Dal 30 settembre invece arriveranno qui direttamente le classi che il preside indicherà, anche in funzione di una migliore organizzazione, della migliore efficienza possibile per organizzare il loro orario, perché capite bene che dividere un orario su quattro plessi è un po' complicato, io ce l'ho su tre già di mio istituzionalmente, quindi è una cosa che effettivamente, che effettivamente comporta un pochettino di difficoltà in più.